A nome delle associazioni che fanno parte del tavolo delle panchine rossi del Comune di Biella e qui abbiamo l'assessora Bessone con noi, volevo ricordare che la panchina rosso è un simbolo per ricordare che le donne vengono in questo Paese uccise ogni tre giorni e quindi in questo modo noi cerchiamo di testimoniare, di sensibilizzare perché le persone sappiano che comunque c'è un omicidio continuo che si chiama femminicidio abbiamo dovuto addirittura coniare un nuovo termine e insieme cerchiamo di continuare un lavoro di sensibilizzazione di educazione, di informazione perché questo è assolutamente prioritario Buongiorno, eccoci qua nuovamente a inaugurare un'altra panchina non soltanto per il piacere di inaugurare ma proprio di lasciare in special modo in questa piazza un segno a tutti i ragazzi che la frequentano proprio stamani ho partecipato a un convegno a Cittastudi dove si parla di sessualità, di rispetto nei confronti della donna con persone che hanno, con i ragazzi del liceo artistico e del liceo linguistico che comunque hanno ascoltato le persone competenti dalla psicologa all'ostetrica anche a un avvocato che ha comunque raccontato quello che possono essere poi tra l'altro proprio i tranelli legali che potrebbero andare incontro qualora si commettessero degli atti che come ben sappiamo non sono giustificati quindi benvengono tutte queste dimostrazioni di appartenenza al mondo delle donne proprio per abituare anche ai giovani di avere rispetto per la donna